fratelli e ragazzi amici di Facebook e Instagram buonasera a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale è appena finita da pochi minuti Monza Inter 1 a 1 non una bella Inter assolutamente a livello di intensità di gioco a livello di idee a livello anche di giocatori perché porca mignota frattesi quando gioca dal primo minuto in nazionale fa i partitoni ogni volta con l'Inter puntualmente quando gioca dal primo minuto desaparecidos primo tempo ha toccato 17 palloni contro 56 di Aslani frattesi ne ha sbagliati di più di Aslani che ne ha sbagliati 4 su 56 ho visto quella statistica sono rimasto così e vabbè sì ci sono stati due inserimenti si è mangiato due gol ma desaparecidos quindi ci sono quei giocatori che dici dai mi aspetto qualcosa visto che che parte titolare e poi per il resto lo stesso Cristiano Aslani comunque poco un cazzo cioè Mkhitaryan fisso in campo lo tiene sbagliato l'impossibile Mkhitaryan lo vediamo partita dopo partita e lui puntualmente lo tiene in campo e niente non c'è niente da fare cioè va bene far rifiatare uno dei due ma cazzo ma barella che è il più in forma tienimelo in mezzo al campo almeno Nicolò barella cioè comunque Monza inter non abbiamo mai vabbè che sono dei due anni che è che 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 pochi anni che in serie a però cioè nessun campo si va a passeggiare se poi passeggi veramente in campo quindi ritmi blandi primo tempo zero tiri in porta alla fine dalla fine della fiera dieci tiri in porta cioè scusate dieci tiri fuori a due cioè dieci volte abbiamo tirato fuori e due volte loro in porta e due volte noi quindi alla fine anche se meritavamo noi perché sicuramente meritava di più l'inter però con due tiri in porta il pareggio ci sta quelli hanno fatto due tiri in porta come noi quindi non non ncs non ci siamo l'autaro veramente l'autaro che si ripoglie un po perché basta con sta cazzo di nazionale questi voli di qua e di su di giù questo non si è mai fermato e si vedono poi risultati in campo non teneva neanche mezza palla quindi cioè turam non gli è arrivato non gli sono arrivati bei palloni artico turam poi comunque il monza si è difeso bene ha giocato bene monza ha fatto la sua partita era anche difficile trovare il pertugio se poi c'era in poco movimento senza palla quasi nullo direi io bene dimas bene dimas assolutamente devrai ha tenuto bene quel quel sarchiapone di juric che è un gigante insomma ha rischiato anche di fare gol l'unica veramente azione pericolosa poi di testa sua dico poi è venuto fuori quel gran gol di danni motta che ti poteva tagliare le gambe l'inter ha avuto comunque la reazione però poco poco anche nel secondo tempo poca roba tant'è che dopo dieci minuti fa già i cambi quindi troppo poco per portare a casa tre punti da inter come la conosciamo noi quindi ci vuole assolutamente più sangue agli occhi più fame e non era non era quella vista oggi in campo ci vuole più condizione atletica per alcuni giocatori adesso la prossima pausa di stecazzo di nazionale che poi se per le partite anche ridosso delle pause noi abbiamo tanti nazionali alcuni veramente che fanno ma non lo so dei viaggi assurdi per le delle partite anche del cazzo a volte e quindi non è assolutamente una scusa però questo è quello che non va quello che sto dicendo assolutamente non ci sono a trovare scusa da rimborcarsi le maniche perché adesso tra tra tre giorni abbiamo la prima di champions league e poi ci sarà il derby ci sarà quindi voglio tutt'altra inter al derby assolutamente e basta anche il mister alla fine se ne è venuto fuori questo sottridente anomalo boh non lo so però vabbè ha dimostrato comunque una novità qualcosa anche correa addirittura può tornare utile comunque nell'azione del gol c'è il tocco di correa in verticale per per carlos che la mette in mezzo e poi viene fuori gol di denzel quindi diciamo che nel suo comunque poi quei due che sono entrati l'hanno hanno portato a casa un pareggio che peccato perché poi oggi ho visto il napoli e dilagato dilagato il cazzo il napoli non meritava assolutamente quel risultato lì chi ha visto la partita lo sa meret traverse pali non si è capito un cazzo poi dopo hanno fatto il 2 a 0 l'1 a 0 un cazzo di tiro deviato quindi assolutamente quella partita lì però il napoli cazzo cazzo adesso è lì noi siamo lì a otto punti con la juve il milan ha recuperato dei punti insomma siamo solo all'inizio ragazzi la classifica non la guardavo neanche prima non la guardo non mi interessa però però visto che il napoli aveva vinto tu dovevi controbattere subito e maggior ragione perché la juve aveva pareggiato è andata così è andata così e per come si era messa è andata anche bene perché potevi anche perderla per come si era messa a un certo punto quindi mi tengo sto pareggio e si guarda avanti basta ragazzi questo è il video quindi domani vi cucate le live reaction poi analizzeremo meglio la partita anche giocatore per giocatore cazzata per cazzata insomma questo è proprio il video il video acceldo diciamo e basta condivisione video che c'è al canale sempre forza inter attivate la campanella e niente drammi nessun dramma ragazzi che siamo veramente solo all'inizio e siamo tutte lì ciao